Siamo qui Posso portarne uno lì? Stai tu, eh? Stai giusto per vedere la telezza per la fine Sì 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 Test Test Wow Wow Bella Bella come sputa benzina, bellissima Sì 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 Oh Ok All pulsante Ciao ragazzi Ciao Ciao Che ero sei maschio Ok ok API Vedi sta registrando il numeretto, sta acceso qua, sotto qua, sulla GoPro? Sì, sì. Ma comunque bisogna spegnere, bisogna un attimo rallentare. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. E quindi si sta asciugando. Vediamo un po' come siamo andati. Vediamo tra poco. Vediamo. Vediamo. Vediamo un po' come. Sì, sì, ne relazzi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.